Dottoressa Manuela Bora, assessore regionale alle attività produttive. Si è appena concluso il Consiglio regionale dell'Ordine dei commercialisti, al quale lei ha partecipato e è stata presente. Che cosa chiedono i dottori commercialisti alla Regione? Quale tipo di collaborazione? Intanto per me, che sono una dottore commercialista, è stato un grande onore poter partecipare al Consiglio dell'Ordine e credo che, soprattutto in questo momento storico, essere commercialista, anche per chi sta in politica, rappresenta un valore aggiunto molto importante. I commercialisti sono un punto di riferimento importante per tutto il sistema economico e se, nonostante le difficoltà, le imprese sono al centro della rimpresa economica, io credo che con essi lo debbano essere anche i commercialisti, perché i commercialisti sono dei consulenti fiscali, tributari, ma sono anche coloro che consigliano gli imprenditori in ogni singola scelta, valutando le opportunità ed eventualmente i limiti. Dall'incontro di oggi è emersa la necessità di coinvolgere il più possibile i commercialisti in tutti i tavoli di concertazione della Regione, a partire non solo da quelli delle attività produttive, ma anche quelli della semplificazione, quelli del credito e anche a quelli, ad esempio, delle politiche comunitari. Quindi da parte della Regione Marche c'è stata una grande disponibilità a coinvolgere i commercialisti e sono sicura che insieme faremo un grande lavoro di squadra, perché se è vero che la Regione deve fare la propria parte, noi chiediamo anche alle imprese di fare la loro. Sono delle sfide importanti da vincere, come ad esempio le sfide dell'innovazione, dell'internazionalizzazione, quella anche dell'accesso al credito e sono delle sfide che gli imprenditori non possono vincere da soli. Accanto all'associazione delle categorie noi chiediamo anche il ruolo da protagonista fatto appunto dai commercialisti. Dottor Stefano Coppola, presidente dell'Ordine dei Commercialisti di Ancona, di cosa si è discusso oggi in Consiglio? Si è discusso del fatto che probabilmente negli anni la figura del dottore commercialista non è stata opportunamente valorizzata nel panorama degli attori della politica economica regionale. Questo è dovuto a una serie di circostanze, parte delle quali è anche forse dovuta a una disattenzione dei dottori commercialisti a determinati aspetti. Oggi abbiamo messo in luce il fatto che il dottore commercialista sta alle imprese come il medico di base sta ai cittadini. Quindi è il primo consulente delle imprese, è il consulente che quindi si sa rendere conto bene di tutte le problematiche che hanno le aziende ed è importante che nell'ambito delle politiche regionali di credito, delle politiche regionali detti dello sviluppo, sia sentita la sua voce. Purtroppo questi meccanismi, i meccanismi che finora hanno regolato l'attività della politica e delle imprese, hanno esclusa la figura del dottore commercialista tra i soggetti proponenti. Abbiamo chiesto di essere ascoltati perché riteniamo di poter dare molto al sistema produttivo regionale. Quindi vorremmo che la figura in generale del dottore commercialista sia valorizzata perché siamo convinti che i dottori commercialisti possono dare molto per lo sviluppo delle imprese. Siamo con il dottor Mariano Cesari, presidente dell'Ordine regionale dei commercialisti. Si è appena concluso il consiglio dell'Ordine, quali sono le problematiche che sono venute fuori da questo consiglio e di che cosa si è parlato? Oggi abbiamo avuto come ospite l'assessore regionale Bora con la delega dell'attività produttiva. Noi abbiamo chiesto un incontro proprio per rappresentare un po' le istanze che in questo momento sono sul nostro tavolo e alle quali forse dobbiamo dare una risposta. Chiaramente abbiamo chiesto una collaborazione alla regione Marche ma abbiamo anche dato la disponibilità ad aiutare loro a prendere alcuni provvedimenti. Oggi ho rappresentato l'assessore a nome dell'Unione regionale che a livello oramai di economia locale siamo in piena crisi, noi giornalmente siamo al fianco delle imprese, siamo al fianco delle famiglie e quindi i nostri 2.800 iscritti sul territorio regionale quindi lavorano in questa direzione. Ora in genere quando si incontra un assessore si è propensi a chiedere delle cose. Noi invece francamente oltre a chiedere alcune cose, quindi una maggiore collaborazione, un maggiore coinvolgimento, ci siamo anche messi a disposizione perché forse nessuno meglio di noi conosce la crisi a livello locale in quanto comunque in questo momento diciamo che siamo dei co-gestori della crisi poiché veniamo nominati ai tribunali a gestire problematiche come gli accordi di ristrutturazione del debito, i concordati e così via. Le aziende ci chiamano perché hanno bisogno di aiuto e quindi hanno bisogno magari di affrontare dei processi di ristrutturazione e noi siamo al loro fianco. Il Consiglio e la riunione vi è servita anche per chiedere di prendere dei provvedimenti alla Regione. Mi può accennare qualcosa a proposito? In questo momento forse la preoccupazione più grossa che abbiamo e che è un po' una preoccupazione di tutti è che di fronte a una crisi del genere per ripartire occorre anche che il risparmio si tramuti l'investimento. Invece in questo momento il sistema bancario sta affrontando un momento di crisi e quindi abbiamo anche detto che è un po' il problema dei problemi perché se non poniamo dei provvedimenti anche su questo ho l'impressione che il risparmio che le banche raccolgono sul territorio non si tramutano in investimenti sul territorio. Quindi la presenza per esempio tra banche locali è di fondamentale importanza e questo lo abbiamo detto in maniera molto chiara. Grazie a tutti.